La votazione è chiusa. La Camera approva. Siamo al 46. C'è l'emendamento. Relatore. 46.50 dell'Onorevole Sani. La ringrazio. Governo. La ringrazio. Lo poniamo in votazione. 46.50. A favore della Commissione e Governo. Votazione aperta. La ringrazio. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Siamo al 46. Votazione aperta. Articolo 46. Del grosso non riesce. Speranza. La Camera approva. Siamo all'articolo 47, relatore. Il 47.50 è precluso all'approvazione del 43.52, quindi siamo al 47.52 Paolo Russo. Parere favorevole. La ringrazio. Conforme al relatore. Governo. Allora, 47.50.